Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui con noi e di sfidare questo caldo, questa bellissima giornata settembrina. Questo incontro è stato voluto fortemente da me, siamo due direttori e ognuno insegue le proprie passioni, molte sono in comune, ma questa in particolare è una mia grande passione, i luoghi abbandonati. Seguivo da qualche anno su Instagram Nicola Bettalotti, che è qui con noi, e dopo un po' di tempo, noto fra chi è follower in comune, Ilarione Nazionale, a che altri? Non è che Ilaria Gaspere. In quel preciso istante ho pensato, beh, probabilmente se lo segue gli piace, ci sarà un senso. Volevo parlare della polvere del tempo che si deposita sui luoghi, che li trasforma, e quindi ci siamo coordinati e adesso siamo qui. Purtroppo non riuscirò a assistere per intero, ma sono davvero felice e onorata. Grazie. Allora, grazie a Rosangela che ci ha, per aver ideato questo incontro, per averci invitati e per averci introdotti. Così bene, fra l'altro, appunto, con questo primissimo rimando a una forma di serendipità, no? Questo caso che l'ha portata a notare che, appunto, anch'io non ne avevamo mai parlato, avevo una passione per i luoghi abbandonati come lei. Allora, io sono Ilaria Gaspari, sono una studiosa di filosofia e scrittrice, e oggi sono entusiasta di essere qua con Nicola Bertellotti, che invece è fotografo, ed è il maestro della fotografia dei luoghi abbandonati. E oggi volevamo accompagnarvi, mi spiace che fa così caldo, spero che non stiate soffrendo troppo. Io sto un po' soffrendo, però vabbè, pazienza, me ne faccio una ragione, anche Nicola, credo sia. Però, cerchiamo di rinfrescarci lo spirito con un viaggio, appunto, attraverso la polvere del tempo. Ora vi spiegheremo anche, magari sicuramente qualcuno l'avrà già indovinato, perché abbiamo scelto questo titolo. E questo viaggio, appunto, nelle pieghe della vita delle cose, sostanzialmente, no? Ma di come il nostro sguardo sulle cose ci trasforma e le trasforma e ci dà accesso a una dimensione nascosta della grande forza che regola tutte le nostre esistenze, anche le nostre idee dell'esistenza, che è il tempo. Quindi cercheremo di fare questo viaggio. Ovviamente qua, essendo giorno, non ci sono fotografie da proiettare, perché sarebbe stato comunque molto complesso farvele vedere con questa luce così forte, ma cercheremo di evocarle a voce. Poi sicuramente le conoscete già, le fotografie di Nicola, ma poi potete magari riscoprirle con occhi nuovi dopo che l'avrete sentito raccontare del suo lavoro. Io vi racconterò invece di alcuni luoghi abbandonati, letterari, diciamo, sospesi fra la letteratura e la filosofia. Insomma, faremo questo viaggio insieme. Però, appunto, cominciamo dall'inizio, cominciamo dal titolo. Quando ci siamo sentiti al telefono per organizzarci appunto su Consiglio di Rosangela, che aveva trovato questa connessione fra di noi, Nicola mi ha parlato di un libro che io non conoscevo. Un libro il cui titolo è diventato il titolo dell'incontro perché mi sono innamorata. L'ho letto subito e me ne sono innamorata. Questo libro, appunto, è La polvere del tempo di Nicola Bouvier. Lo definirei un romanzo di viaggio, un romanzo sul viaggio, su quello che è il viaggio che può fare nella vita di una persona. E sono d'accordo con Nicola che Nicola Bouvier sia uno scrittore di viaggio eccezionale, ma anche uno scrittore to cure eccezionale. Non credo che si debbano sempre etichettare e restringere a un genere specifico le opere degli scrittori. È un autore straordinario che sa tratteggiare con pochissime parole delle immagini potentissime, fortissime, che rimangono incise nella mente di chi legge, come se avesse visto delle fotografie, come se avesse visto delle immagini. Lui racconta di questo suo viaggio verso Oriente, che dice in questa bellissima prefazione che ha la riedizione Feltrinelli del libro Paolo Rumitz, è il luogo dove tutti tendiamo effettivamente, quando pensiamo all'esotico, quando pensiamo al viaggio, perché in fondo è il luogo da cui veniamo. La nostra civiltà indoeuropea viene da lì. Se andiamo verso l'Atlantico troviamo soltanto oceano, di là invece troviamo questa radice potente che ci richiama. E lui fa questo viaggio insieme a un amico disegnatore, Thierry, ed è la storia appunto di come, lui lo dice molto bene nelle pagine iniziali, il viaggio ti sa fare e disfare. Ecco, io per cominciare volevo appunto chiedere anche a te Nicola, com'è il tuo rapporto col viaggio e con questo libro, come se c'è stato effettivamente un momento nella tua vita di fotografo, ma anche di uomo, in cui hai capito che il modo in cui si guardano le cose è qualcosa che ti trasforma così profondamente da decidere di farne poi il tuo mestiere. Tanto buonasera a tutti. Sì, allora, questo libro che ci lega oggi, quello della polvere del mondo, no? Di Bouvier. Ho detto la polvere del tempo con un lapsus. Vabbè. Un lapsus freudiano però pazzesco, perché per me, cioè perché in realtà noi stiamo parlando di luoghi abbandonati e lo spazio e il tempo nel mondo lì si sommano. Esatto, e soprattutto anche il viaggio, no? Perché partiamo da un libro di viaggio? Perché prima di tutto il mio tipo di fotografia è una fotografia di viaggio, perché sono sempre in giro, la ricerca mi porta a viaggiare. Allora, questo libro parte subito con delle immagini, come dicevi tu, fortissime. Immagini che mi hanno ricordato il mio bambino. Lui dice all'inizio dove nasce la voglia del viaggio. Nasce quando siamo a Panciangiu sugli Atlanti da bambini, no? E fantastichiamo su tutti i posti. Poi c'è un'altra immagine bellissima, è che dopo aver letto un libro di Jack London, lui stesso, con le unghie, aveva il burro a tavola e quindi segnava il corso del fiume di cui aveva appena letto, proprio lo incideva nel burro. Tutte queste cose che io ho letto prima di iniziare questa avventura nella fotografia, ma poi come vedrete io sono un fotografo un po' anomalo. Sono contento di essere qui stasera e di parlare di luoghi, perché i luoghi hanno fatto di me un fotografo. Il mezzo, la fotografia, è una cosa che è avvenuta dopo. Se avessi avuto altri talenti, magari se avessi saputo scrivere, come Ilaria, magari ne avrei scritto. Se fossi stato un pittore, mi sarei messo lì col cavalletto, davanti a un posto abbandonato, avrei fatto un bellissimo acquarello. Invece no, la prima volta che sono stato di fronte a un luogo abbandonato, avevo una macchina fotografica, ero semplicemente un amatore, quindi non ero un professionista, non avevo bellità, ero semplicemente un appassionato di viaggio. E qui torniamo a Bouvier e al suo concetto del viaggio che ti asciuga, del viaggio che ci toglie. Lui dice non ci facciamo addobbare dai viaggi come alberi di Natale, noi siamo abituati adesso, anche con i social, a puntellare qualsiasi cosa facciamo, siamo stati qua, siamo stati là. L'esperienza, no? L'esperienza, se no non è successo. Lui andava proprio nella direzione opposta, il posto doveva in qualche modo ferirlo, se non portava a casa, e lui è stato anche male, se sai in India poi no, è stato anche veramente, il viaggio l'ha veramente ridotto anche male, doveva dargli un segno, un segno proprio del tempo, e del tempo che passava e del viaggio stesso. E quindi lui, tramite immagine meravigliosa, mi ha veramente ispirato per quello che faccio. C'è un'immagine, l'ultima che voglio citare, di lui che un giorno in Persia si accorge che durante un temporale, in una moschea, le piccole maioliche stavano venendo via, ma pochissime, su migliaia. E lui ha fatto una bellissima osservazione, che il posto stava mutando continuamente, nessuno se ne accorgeva perché ci vorrebbero tempeste per 50.000 anni, per toglierle tutte, no? Però guardava questo posto che non era più identico a quello di prima, anche di pochi minuti prima. È un po' quello che sta alla base, insomma, anche di quello che faccio della mia fotografia, il fatto che l'attimo che colgo è unico, è diverso da quello prima e da tutti quelli successivi. Questo è un discorso che trovo veramente vertiginoso, da tanto mi affascina. Non so quanti, immagino che se siete qua, molti di voi condividano questa affascinazione per appunto la fotografia di luoghi abbandonati, il linguaggio delle cose, il modo in cui gli oggetti ci parlano. E io appunto, stavo dicendo prima a Nicola, ma ci pensavo da tempo, da quando abbiamo appunto messo in cantiere questo incontro, e ho iniziato a chiedermi, no? Ma cos'è che ci attira così tanto rispetto a queste immagini di cose la cui vita si è fermata, no? Di luoghi che erano stati costruiti con una finalità. Sapete, c'è l'idea aristotelica che esistano quattro generi di cause, che esista per ogni cosa una causa finale che dà forma al suo essere in un certo senso, e in quei casi questa causa non funziona più. È come se si fosse inceppata. Quindi da un lato c'è questo, c'è questa perdita di funzione che sicuramente ci affascina, ma ci deve essere qualcosa di più profondo, mi dicevo. Ci sono dei testi bellissimi, per esempio anche un antropologo come Vito Teti ha scritto un bellissimo testo sui luoghi abbandonati, in particolare, esatto, del Sud Italia, che è un libro bellissimo in cui va anche lì alla ricerca di questo segreto. C'è una moda vera e propria, adesso magari poi Nicola ce ne parlerà di più, ma ci sono delle tendenze, per esempio su Instagram, su tutti i social, dove si raccolgono le immagini del nostro tempo, questo tempo che parla e si parla e si rappresenta tantissimo per immagini, e si segnano proprio delle tendenze molto forti, ci sono tantissime persone che hanno la passione dei luoghi abbandonati. Qual è la strada? Beh, sicuramente una cosa che dice Vito Teti, che secondo me è molto interessante, è che in effetti questi luoghi in cui la vita si è fermata hanno la caratteristica di esserci allo stesso tempo familiari e sconosciuti. Quindi sostanzialmente la definizione stessa di quello che è il perturbante, cioè quella forza che nelle arti, nella letteratura, ma in qualsiasi arte, prende un po' il sopravvento sul nostro sentire. Anche il concetto di sublime, no? Esatto, perché ci porta un po' al limite della nostra percezione. Non è il bello, ma è qualcosa che ci muove. È qualcosa che ci, come hai detto tu molto bene prima, che ci ferisce da un lato, e dall'altro però ci attira, attira la nostra curiosità, perché immaginare, non so, quello che poteva essere un Luna Park, prima parlavamo dei Luna Park, degli anni Sessanta, o un albergo che ha smesso di essere in funzione, non so, cento anni fa, è chiaro che sono dei luoghi che suggestionano moltissimo. Io ancora mi ricordo, io quando ero bambina ero ossessionata dalla storia di Pompei, era una mia ossessione, avevo un libro che ossessivamente, ma ero molto piccola, a 4-5 anni continuavo a sfogliare questo libro, e mi faceva impazzire, cioè proprio anche l'idea che ci fosse per esempio il cane rimasto imprigionato nella lava, nell'atto di tirare la catena, è un'immagine di cui non mi libererò mai, e ovviamente non sono l'unica, è una metafora anche molto potente a livello psicologico, nel senso che ci sono tantissimi passaggi, fra l'altro in cui i grandi autori della psicanalisi, primo fra tutti Freud, descrivono il lavoro di scavo dell'analisi come un lavoro archeologico, e questo aspetto di stratificazione delle funzioni, delle cose, come qualcosa che accade anche nella nostra psiche. E quindi, non so, la spiegazione che mi sono data è che sì, ci sono tutte queste ragioni di fascinazione, questo perturbante, questo senso appunto del sublime che ci spinge un po' al limite della nostra percezione, è una quasi insopportabile qualche volta il peso della sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di unico, di irripetibile che ci mette in discussione. Ma tutto questo, secondo me, perché, come rivelava anche il mio lapsus iniziale, ci mettono di fronte al mistero del tempo, no? Il mistero del tempo e al fatto che comunque noi siamo, diciamo in qualche modo, animali condannati alla nostalgia, che noi pensiamo spesso riguardare un luogo, che noi pensiamo riguardare una persona, ma che in realtà riguarda spesso una versione di noi, perché sappiamo che il tempo ci modella e vedere che il tempo modella anche le cose forse ci provoca questa vertigine. Non so se tu sei d'accordo e come la vivi tu questa cosa. Intanto anch'io mi sono fatto la domanda perché questi luoghi affascinano, no? Sia me, all'inizio, quando tutto è iniziato, perché come ti ho detto prima, io prima di fotografare questo soggetto, questi luoghi, non avevo esattamente la percezione. Noi tutti i giorni andiamo al lavoro, facciamo la nostra vita e passiamo di fronte magari a posti dove sono all'interno avere i propri tesori, ma non ci pensiamo nemmeno, non lo concepiamo. Adesso sì, come dicevi, c'è un po' una moda, però mi sono risposto in due modi. Allora, innanzitutto, secondo me, e la mia visione naturalmente, questi posti ci assomigliano perché noi siamo decadenti, noi andiamo verso la decadenza. È una cosa un po' rimossa, non si dice, no? Perché come la morte stessa, però noi sono un po' uno specchio nostro. Quindi dici uno specchio che ci permette di superare anche un tabù, però. Sì, perché la fragilità per me è la loro forza di questi posti. Non sono più assoggettati al potere, quindi si astraggono e diventano oggetti che non sono più quello che erano prima, ma un oggetto autonomo e praticamente che rappresenta l'oblio e, come diceva Marco Gé, il famoso antropologo che è mancato da poco, rappresentano il tempo puro. Il tempo puro cos'è? è qualcosa che esce dalla storia, perché la rovina, il posto abbandonato, praticamente ha fatto un viaggio verso di noi ed è una sopravvivenza, una sopravvivenza all'oblio. E quindi noi che l'ammiriamo possiamo vedere in un oggetto solo proprio il concetto di tempo puro, che si astrae dalla storia. Infatti lui fa la differenza tra rovine, io fotografo rovine moderne naturalmente, e macerie. Perché c'è questa differenza? Le macerie sono quelle che rivelano la folia della storia, no? Anche noi adesso vediamo, abbiamo la guerra alle porte, sono quello che provano i terremoti, che provano le guerre stesse. Però rovine e macerie non si assomigliano proprio perché all'interno della rovina c'è questo concetto di tempo puro. E purtroppo ora siamo in un mondo che non crea più rovine, pensaci l'aria, no? È talmente accelerato, tutto è talmente veloce, siamo nell'era dell'antropocene, no? In cui l'uomo rimodella a sé il paesaggio, quindi non c'è più tempo per creare rovine. E io lo vedo anche con i miei occhi. Dicevo prima, io fotografo rovine moderne, quindi del Novecento, diciamo, no? Ville, ospedali, fabbriche dismesse. E torno spesso nello stesso posto e vedo i posti sono totalmente cambiati, quindi o non esistono più, sono demoliti, perché magari c'era bisogno di un parcheggio di un centro commerciale. E prima invece c'era un mondo che era più lento e ci dava più testimonianze. Quindi a lui stesso si domanda sapremmo più ricreare rovine? E ci dà anche una risposta e lui pensa di no. Questa è una domanda bellissima e interessantissima, perché in effetti appunto ci riporta anche all'aspetto un po' nevrotico forse, del rapporto della nostra epoca con il tempo e con la dissoluzione e con la pazienza e anche la noia che serve, perché appunto i luoghi che fotografa Nicola, se avete presente le sue fotografie, hanno tantissimi aspetti interessanti, ne stavamo parlando prima. Da un lato il fatto che nonostante appunto il luogo abbandonato per eccellenza, sia poi proprio per questo legame con il perturbante probabilmente, uno dei luoghi per eccellenza di ambientazione della letteratura horror, pensate a quanti romanzi, per esempio Stephen King è un grande maestro dell'ambientare, delle storie, di fatti raccapriccianti, paranormali. C'è anche Edgar Allan Poe con la casa degli Usher, no? Esatto, è una cosa ancora che nasce proprio all'inizio, però lì c'è sempre il cimitero indiano che sta sotto l'albergo e quindi spande la sua maledizione ed è qualcosa che naturalmente ha un valore anche molto forte, metaforico, l'idea che noi abbiamo costruito un mondo sulle rovine del mondo precedente e che quelle rovine continuano a farsi sentire. Appunto, certo, la casa degli Usher con quelle crepe che arrivano in cima quindi è una casa già in rovina anche nel momento in cui è abitata perché in realtà la stirpe che la abita è corrotta. E anche lì era la metafora delle persone, no? Esatto, esatto, quindi la casa è lo specchio di chi la abita ed è questo segno di distruzione imminente che è più chiaro anche se poi riguarda tutti noi e quindi in realtà per quello ci coinvolge. Però, appunto, diciamo questo aspetto di, oppure, non so, i luoghi di divertimento, i luoghi della spensieratezza che tu mi dicevi che ami fotografare molto spesso vengono raccontati, utilizzati come sfondi di racconti che ci turbano, che ci perturbano perché ci fanno vedere forse la faccia nascosta dietro la spensieratezza, l'aspetto transeunte che anche questo è un motivo letterario antichissimo, l'idea che tutte le cose belle passino e che abbiano poi una faccia anche volendo un po' mostruosa. Ma nelle tue fotografie succede una specie di magia rispetto a questo, nel senso che non sono inquietanti, cioè, o meglio, sono inquietanti ma non sono angoscianti, no? C'è sempre molta luce e c'è sempre soprattutto questo aspetto della natura che trova il suo posto e forse anche lì il rapporto con il tempo come, diciamo, un processo naturale rivela la sua faccia se vogliamo più dico rassicurante ma non intendo dire che ci deve rassicurare ma forse riportare a qualcosa di talmente vero che in fondo non possiamo che abbracciarlo. Non so se sei d'accordo. No, no, assolutamente come dicevi tu io quando entro in questi posti ho proprio la sensazione opposta cioè proprio un senso di pace, di tranquillità perché sono un po' di isole, no? Sono posti dimenticati io nel 2016 ho fatto una mostra a Napoli che si chiamava Ixunt Dracones no? La locuzione latina è più frequente Leones che Dracones ma insomma che significano? Erano quelle scritte che si trovavano nelle mappe che denotavano i posti proprio sconosciuti quindi perché io ho intitolato questa mostra in questo modo? Perché sono tutti posti che sono tornati a essere fuori nelle mappe quindi anche proprio mi sono accorto che alcuni posti che erano su Google Maps poi spariscono quindi andare a riprenderli e isolarmi in questi posti da come dicevo questo senso proprio di tranquillità e non l'ho mai visti come nel senso creepy nel senso tipo la casa stregata infestata non ho mai percepito presenze come ho detto prima a lei così ovviamente volevo sapere se aveva sentito dei fantasmi però ho sentito la paura che non sono dei fantasmi ma sono dei proprietari che potrebbero arrivare da un momento all'altro perché tutto quello che faccio tra virgolette è un po' illegale anche se non non uso attrezzi da scasso e non non sono nemmeno capace quindi o mi arrampico c'è un buco o la porta è aperta quindi la paura semmai è se vengono i carabinieri e cose del genere e spesso vengono poi si risolve anzi io ti dico di più non solo mi danno un senso di pace questi posti ma hanno alterato il mio senso estetico sì praticamente mi rifaccio un po' a un poema di Vittorio Go che si scagliò contro l'inespressività dei monumenti troppo nuovi perché lui diceva che se il tempo non le aveva in qualche modo intaccati non erano non erano così non valevano così tanto come se quelli che avevano vissuto no e infatti io pensandoci questa cosa è successa anche in me infatti ti potrei dire io trovo ancora molta bellezza in questi posti no proprio oltre il fatto non solo nell'affresco abbandonato così anche magari nel che ne so in una fabbrica in questi macchinari arrugginiti trovo sempre questa bellezza perché per me bellezza più tempo è maggiore di bellezza cioè proprio come diciamo la patina la patina del tempo che riporta il titolo di oggi è quello che mi dà il fascino e credo che sia anche un'altra di quelle ragioni per cui le persone trovano fascino infatti io fotografando rovine del novecento fotografo case che ricordano un po' a tutti questo mi è stato detto magari durante mostre cose del genere a casa dei nostri nonni tutti noi abbiamo avuto i nonni con una casa con magari vecchi mobili quell'odore tipico come diceva Sorrentino nel film della grande bellezza e entrando nei posti abbandonati c'è sempre ecco semmai ti posso dire io sento gli spiriti ma non presenze di chi ha vissuto prima perché gli oggetti tutte le cose su cui si posa la polvere che io chiamo addirittura la pelle del tempo perché è proprio qualcosa che denota e dà questa forza quindi fragile ma forte allo stesso momento sì questo deve essere emozionantissimo non riesco anche a immaginare come deve essere forte intensa la sensazione di entrare in un posto in cui nessuno ha messo piede per 20 30 40 quello mi è capitato poche volte proprio di essere il primo però è capitato è capitato come dice c'è eh no vabbè è un'emozione quasi molto fisica però io dico sempre che questa cosa mi fa tornare bambino perché perché è un po' come una caccia al tesoro no? e quando trovo le coordinate perché poi il lavoro è a monte e la ricerca di questi posti prima di andare dico sempre che le coordinate sono la X dove scavare no? quando ho le coordinate cioè proprio mi sento un bambino viaggio sono felice e quando mi trovo essere per primo è proprio la capsula del tempo no? perché spesso succede come dicevamo prima è una moda che non sono certo il primo e mi accorgo di manipolazioni che dal punto di vista fotografico accetto nel senso se trovo o il graffito il vandalismo è comunque uno strato del tempo perché a loro volta queste cose vengono abbandonate e fanno no? io interessato al segno del tempo sono interessato a tutti i passaggi però allo stesso tempo questa cosa del segno mi dice che parla veramente a me come se parlassi ai miei antenati alle mie paure alle mie ossessioni è veramente un qualcosa e lì in quel momento ho un turbamento però sempre riferito al sentimento del sublime quindi non qualcosa che mi inquieta però qualcosa che mi spuote e mi smuove quello sicuramente questo è molto interessante ma appunto una delle cose che secondo me ci attirano verso questi luoghi che un po' insomma è venuta fuori di striscio appunto è da un lato il legame con quello che noi siamo appunto questo essere specchio e questo aspetto appunto dell'esperienza e anche questo fortissimo legame emotivo della nostalgia per cui appunto magari il fatto di ricondurre un certo ricordo personale quello che poi si trova in un luogo o si vede in una fotografia chiaramente ci emoziona perché ci fa sentire chiamati in causa ma poi appunto secondo me c'è anche un fortissimo legame con le storie no? non soltanto con la storia con la la grande storia diciamo maiuscola quindi non soltanto con le fasi appunto del tempo che come dicevi tu molto bene prima tende a trasformare più che in rovine in macerie no? nel momento in cui colpisce ma proprio con le storie delle vite delle persone che hanno fatto quelle case no? fare una casa non significa soltanto costruirla significa anche abitarla significa anche maneggiare gli oggetti anche così come fare un cosiddetto non luogo come può essere non so un centro commerciale un parco di divertimenti forse in effetti appunto quei luoghi sono fatti anche appunto da tutti coloro che li hanno attraversati e in effetti ci sono dei momenti ci sono tantissimi testi letterali tantissimi romanzi che ci raccontano di luoghi abbandonati ma io mentre pensavo questo incontro insomma me ne sono emersi alla memoria in particolare tre che secondo me ci dicono molto tre momenti di questo tipo di trasformazioni il primo è un luogo di fiaba ed è il castello della bella addormentata nel bosco che è esattamente un luogo come quelli che potresti fotografare tu perché cosa succede che nel momento in cui tutti gli abitanti del castello sono vittima dell'incantesimo in quel momento lì cadono in un sonno che simula naturalmente la morte e quindi crea un'accelerazione temporale che non corrisponde all'accelerazione delle vite delle persone questo è anche molto interessante noi molte volte vivendo non abbiamo la sensazione di quanto tempo sia passato e ce ne accorgiamo poi vedendo le differenze di un luogo rispetto a come ce lo ricordavamo in questo caso gli abitanti sono come ibernati da questo sonno e quando si svegliano cosa è successo? è successo che le piante sono cresciute i rovi hanno creato una foresta fittissima e infatti il famoso principe poi deve superare lo sbarramento della natura che ha costruito appunto una foresta dentro queste rovine e quindi lì c'è questo aspetto appunto del tempo non percepito ma passato e misurato dalla natura un'altra famosissima storia di luogo abbandonato in letteratura è legata a un personaggio che invece ha volutamente ibernato la sua vita ed è un grandissimo personaggio creato da Dickens che è la signora Havisham di grandi speranze questo personaggio straordinario diabolico che lui si inventa forse ispirato da un fatto di cronaca della storia di una ragazza che in Australia lasciata all'altare dal fidanzato aveva vissuto poi tutto il resto della sua vita immobile con la porta aperta aspettando che lui tornasse e si inventa questa diabolica vecchietta che indossa il vestito da sposa per decenni dopo il suo matrimonio sfumato gli orologi sono tutti fermi e c'è questa stanza in cui lei riceve la visita del piccolo protagonista Pip che è un orfano che lei chiama in casa in realtà per usarlo un po' come cavia per farlo sedurre e disilludere da questa bambina che tiene come pupilla e lui entra forse anche qua un tratto dei tuoi luoghi lui entra in questa stanza e inizialmente tutto sembra al suo posto solo che poi a ben guardare tutte le cose sono pronte a sfaldarsi perché il tempo le ha erose da dentro quindi questa idea che comunque il passaggio del tempo cambia la composizione interna delle cose addirittura nella stanza di messa oltre agli orologi fermi c'è anche questa torta nuziale che chiaramente possiamo immaginare in uno stato di decomposizione abbastanza forte che però sembra una torta di panna normale vista da fuori quindi questo aspetto dell'apparenza che si ribalta e poi l'ultima suggestione letteraria così che ti volevo lanciare per vedere appunto come nel tuo lavoro invece vengono fuori queste cose riguarda un altro un bellissimo brano che c'è nell'ultimo volume della ricerca del tempo perduto che è ambientato durante la prima guerra mondiale e la città di Parigi che sembrava un luogo di fate inizialmente al narratore quando lui ci è cresciuto ha desiderato entrare nei salotti ha vissuto tutta la sua vita lì poi a un certo punto lui fra l'altro Proust usa questo espediente della guerra che è un cambiamento una cesura radicale per segnalare che è passato più tempo di quello che in realtà potrebbe essere passato nella vita del narratore lui ha avuto una vita relativamente breve morto poco più che cinquantenne e però nel suo racconto di questa vita del narratore che in parte coincide con la sua biografia sembra che racconti un tempo molto più lungo perché? perché in mezzo c'è appunto questo buco questo intervallo della guerra e il narratore a un certo punto si trova a Parigi e Parigi è cambiata ha cambiato faccia perché la stanno bombardando i tedeschi e quindi Parigi è diventata una città che sembra campagna cioè la città delle luci la città della vita notturna dei caffè sempre aperti a un certo punto lui dice gli ricorda l'area di Combré che era il paesino la cittadina di campagna in cui passava le vacanze in cui ricorda tutta la sua infanzia nella primissima parte del romanzo quindi la notte della città che doveva essere appunto una notte di una giungla luccicante di suoni di tentazioni eccetera diventa qualcosa di misterioso diventa come la notte di un bosco una notte di campagna cioè un luogo urbano rimanda al suo esatto opposto e anche questo secondo me succede nelle tue fotografie che ci sia una sorta di rovesciamento fra quello che un luogo era pensato per essere e quello che poi si sembra svelarsi nella fotografia come se apparenza e realtà si cambiassero di posto vorticosamente non so se sono delle immagini che in qualche modo si ricollegano in te a qualche idea di foto proprio quello che mi succede io la chiamo un po' epifania che tantissimi posti che visito mi ricordano mi regalano delle suggestioni di magari qualcosa che ho letto una musica che ho sentito per esempio e soprattutto anche suggestioni cinematografiche io da bambino non sognavo di fare il fotografo ma sognavo di fare il regista il mio sogno era il cinema facevo cortometraggi con amici quindi tutta un'altra cosa questa cosa però mi è rimasta io trovo molto cinematografici questi luoghi e cerco a volte anche con i titoli che poi è la mia interpretazione però lascio allo spettatore così perché vi faccio anche un esempio pratico per esempio sono stato in Belgio nel 2015 e ho visitato per la prima volta l'interno di una torre di raffreddamento di un ex centrale nucleare che è una cosa incredibile perché di solito sono posti che non lasciano andare però anche quella era abbandonata con tutti i macchinari così c'era una scaletta addirittura bisogna andarci con un gommone dal basso che era allagato insomma tutta una cosa avventurosa ed è veramente prima si diceva il sublime è talmente questa architettura così che ti colpisce perché non siamo abituati e è anche dal punto di vista molto interessante perché tu vedi un posto che non vedresti mai e sai come funzionano le cose ma in quel momento ho avuto una di quelle epifanie ho detto ma io questo posto l'ho già visto dove l'ho visto in un film molto famoso che si chiama Brasil di Telly Gilliam degli anni 80 il finale che per me quando l'ho visto da ragazzino per me era un posto fantascientifico si vedeva che aveva qualcosa a che vedere con l'industriale però poi lì ho detto no ma questo è il finale non era la stessa torre di raffreddamento lui l'ha girato a Londra e poi mi sono anche informato è stata demolita quella di Brasil però era identica addirittura c'erano i licheni i muschi che davano tutto questo allone verde alla base ed era la stessa cosa quindi lì c'è stata proprio una forza che mi ha riportato a qua e mi riportano sempre questi posti però prima quando tu hai detto volevo riprendere una tua frase che mi è piaciuta sul fatto della storia con la S maiuscola e la microstoria no? che è proprio una materia la microstoria è vero? soprattutto io incontro luoghi che sono testimoni della microstoria cioè quella che quasi mai trovo documentazione no? la casa del contadino poi si trovano cose meravigliose e si scopre come fino al secolo scorso anche un contadino semplice però si faceva il corridoio affrescato no? magari la casa era spartana semplicissima ma questa bellezza che questo gusto mi ha colpito però io sono stato anche testimone di posti proprio della storia con la S maiuscola ed è incredibile per citarne uno anche in Svizzera io ho visitato la casa di Bakuni nell'anarchico russo sulle colline di Locarno incredibilmente abbandonata se voi andate su Wikipedia ultimo soggiorno prima di morire a Locarno così aperta a tutti basta fare una scalata su questa collina ed è incredibile io ho appassionato ho anche studiato storia quindi troviamo di fronte a una cosa del genere ma abbiamo un esempio anche in Italia e qui mi voglio rallacciare quando dicevo sono interessato a tutte le stratificazioni del tempo di questi posti io ho visto all'Eri Cavour in Piemonte c'è infatti Cavour lo dice il nome la casa natale di Camillo Benzo Conte di Cavour uno dei nostri padri della patria allora entro in questo posto vedo proprio la camera dove lui è nato a freschi meravigliosi in tarsi non c'è più niente è abbandonata la camera di Cavour aspetta ora ti racconto è abbandonata perché la storia è curiosa poi vedo che il pavimento però era cambiato c'era una lastra di cemento una gettata di cemento c'era stata data e non capivo sembrava l'inizio di un restauro poi girottolo nelle stanze e in una stanza vedo i cartelli pubblicitari del restauro del futuro restauro della casa natale di Cavour per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia che era il 2011 ma lì era già il 2012 2013 quindi erano abbandonati anche quelli quindi c'è stato un tentativo un po' all'italiana magari hanno preso dei fondi hanno iniziato i lavori hanno fatto questo scempio perché poi spesso io non tifo per la decadenza dei posti cioè non è che voglio che i posti muoiano però sono anche contro i restauri quelli invadenti che veramente tolgono l'anima ai posti è come se cancellassero quell'aspetto dell'erosione del tempo che dicevo prima certo certo per esempio un'altra villa molto famosa la villa Borromeo d'Adda che è ad Arcore è proprio vicina alla casa di Berlusconi quindi il suo vicino di casa è questa villa meravigliosa io ho fatto le foto nel 2017 grazie a Dio è stata recuperata perché comunque i tetti reggevano ancora io però l'ho vista per caso nelle foto di matrimonio di un tizio è stata fatta di un rosa terribile è stato stravolto tutto le lampade originali sono state cambiate l'ho riconosciuta proprio perché l'avevo in mente quindi attenzione ok bene riportare i posti al loro antico splendore però quale splendore se gli togli l'anima poi gli togli tutto a questi posti comunque per finire il discorso della stratificazione del tempo per me come fotografia no però come documentazione è stato importante anche trovare questo diciamo tentativo di restauro che a sua volta è stato abbandonato perché ora il posto praticamente vive in qualche modo si muove ed è l'aneddoto che ti ho appena raccontato che ho raccontato anche a loro è una delle prove di questi posti abbandonati che si muovono ed evolvono io non riesco a capire mai il labiale perfetto abbiamo ancora cinque minuti grazie Nicola io ti ascolterai ancora per due ore perché sono veramente appassionata a questo tema e poi appunto così strano avere cioè noi magari le foto le vediamo abbiamo familiarità con l'immagine finita ma quello che c'è dietro è tutto un mistero quindi volevo chiederti ma come li scegli questi luoghi se ci puoi un po' raccontare questo sì sì come dicevo prima il lavoro è a monte allora i primi anni era una vera e propria febbre l'ossessione era al massimo quindi passavo anche tutta la notte al pc perché vabbè sì diciamo che internet ha dato una grande mano no? io non sono il certo il solo che fa questo genere fotografico ho dei padri illustri uno di questi è Robert Polidori che iniziò a fare negli anni 90 la Cuba non abbandonata però fatiscente quindi questi interni con le pareti screpolate bellissime no? naturalmente internet i navigatori satellitari hanno portato una facilità di ricerca per questi posti quindi in maniera folle quindi posso trovarli anche guardando dall'alto su Google Maps girando proprio la mappa e magari vedono una chiesa con il tetto sventrato vado a vedere il nome della chiesa poi incrocio dati e magari metto in lista poi magari quando ho tutti tre o quattro posti nella solita zona prendo e vado poi che ne so YouTube è pieno di ragazzini che vanno a fare anche tipo che fanno gli sciocchi un po' nei posti fanno la casa infestate no? queste cose così magari ne contatto uno magari in tre mi dicono di no poi c'è quello che ti aiuta e ti dice questo posto è lì e quindi io poi quando ho tutti questi posti vado differente il discorso con l'estero che è quello parto molto prima quando preparo i viaggi all'estero c'è anche un anno o anche due di anni di preparazione perché magari è più difficile tornarci mentre in Italia magari posso tornarci anche la settimana dopo quindi è questo un po' il modo in cui li trovo vabbè è fantastico questa cosa avventurosa di questi ragazzini che poi ti fanno da guide fanno anche un po' i vandali quindi queste figure un po' come dire sospese fra delinquenza e scoperta allora purtroppo temo che dobbiamo chiudere perché stiamo stiamo sforando e dobbiamo lasciare spazio agli incontri successivi però io appunto ti volevo ringraziare tantissimo per questo accesso che ci hai dato a questo mondo così particolare chiedendoti poi un'ultimissima cosa cioè appunto come prima hai detto una cosa che mi ha molto colpito che oggi non costruiamo più rovine tu come ti immagini fra cento anni una fotografia come la tua esisterà ancora sarà tutto intelligenza artificiale che simulerà le rovine ci sono già artisti che hanno preso come soggetto i luoghi abbandonati e fanno già mostre con l'intelligenza artificiale posti incredibili diciamo proprio quelli da sogno c'è già un genere a parte no però anzi ti dico di più io credo che una cosa del genere di ancora più valore cioè come quello che c'è ora sì sì alle foto quelle dei posti reali no quindi no io credo che continui il mondo continueremo magari i posti dell'occidente i posti dove il progresso è maggiore sarà più difficile però il mondo è grande ci sono ancora io ho sempre ancora tanti viaggi in programma bellissimo grazie mille grazie a voi per l'attenzione di essere stati qua in questo caldo che ci sta un po' sciogliendo tutti quanti grazie a tutti se qualcuno vuole credo che ci siano i libri per fare il firma copie vero alla libreria alla libreria lì noi adesso andiamo lì per chi vuole una firma copie grazie a tutti Grazie.